Buongiorno e benvenuto. Oggi parliamo di conservazione digitale e processo telematico con Gateway Pack. Prima di approfondire questi due argomenti volevo citare questo articolo, si intitola Guida Rapida, KB52091 sul nostro sito, sul sito di ACAB, che è una sorta di guida all'utilizzo di Gateway Pack, che quindi spiega, ci sono i link agli altri articoli e questo vuole rappresentare un indice, una sorta di indice, con il funzionamento, la logica di funzionamento, le funzionalità base, quindi che sono i primi passi per metterlo in piedi e configurarlo minimalmente, e poi una serie di procedure più avanzate per aumentare le potenzialità. Tra le funzionalità avanzate ci sono la conservazione digitale e il processo telematico. Questi link aprono gli altri due articoli relativi a questi due argomenti. Guardiamo il primo, occupiamoci di conservazione digitale. Che cos'è la conservazione digitale? Allora, i messaggi pack sono delle mail con un certificato associato al legato, che diciamo ne attesta la validità legale del messaggio. Affinché un messaggio sia sempre valido legalmente nel tempo, occorre che il certificato sia valido, non sia scaduto, perché questo, diciamo, valida, il certificato attesta l'integrità del messaggio che non è stato modificato. Il problema dei certificati è che hanno una scadenza, tipicamente un anno, ma potrebbe essere anche diverso di più o di meno. Quindi quando, se il certificato associato al messaggio, anche se il messaggio non è stato modificato, ma il certificato scade, la mail, la validità legale di quella mail cessa, diciamo diventare equivalente a qualsiasi mail normale, non dotata di certificato. Per mantenere la validità legale nel tempo del certificato, bisogna rinnovare il certificato con un meccanismo che si basa sulle marche temporali. Questo è, diciamo, un servizio che, come la posta elettronica è PEC, è fornita dai gestori di posta PEC, posta elettronica certificata. Il servizio di rinnovo dei certificati, si chiama, diciamo, è fornito da, o i gestori stessi, o da altri, da soggetti terze parti, con un servizio che va sotto il nome di conservazione digitale. Questi conservatori, quindi, prendono un messaggio, lo mettono in un archivio, e si occupano periodicamente di rinnovare il certificato, in modo che non scada mai. Quindi conservare, oltre, diciamo, la scadenza naturale del certificato, la validità legale della mail. Il Gateway PEC non è un sistema, non è un conservatore digitale, però si interfaccia, diciamo, attualmente con 2C Solution, che è una società che, fra gli altri servizi, che offre le imprese, offre anche il servizio di conservazione digitale. Quindi il Gateway PEC si interfaccia con questo conservatore e gli manda i messaggi da conservare. Quali messaggi manda? Quelli dotati del certificato da rinnovare. Diciamo, quando una mail PEC viene spedita per mezzo al Gateway PEC, diciamo, quando arriva al Gateway PEC, è una mail normale. Il Gateway PEC, là, inoltre, ha un gestore di posta certificata che la fa diventare una mail certificata prima di mandarla al vero destinatario. Quindi il Gateway PEC non manda la mail in uscita perché non è una PEC, non ha un certificato, quindi ci sarebbe niente da rinnovare. Viceversa, manda le ricevute di accettazione, come è scritto qua, e di consegna perché queste, diciamo, sono dotate di certificate e anche i messaggi PEC che sono stati ricevuti dalla casella PEC su cui è interfacciato. Quindi se voglio avere nell'archivio comunque un messaggio che ho inviato, come è sempre scritto qua, occorre ottenere la ricevuta di consegna e accettazione complete che hanno, diciamo, in allegato il messaggio PEC originale. Quindi se avendo queste ricevute conservate comunque posso estrarre la mail PEC che avevo mandato con la validità legale. Vediamo su Gateway PEC. Ci colleghiamo a vedere l'interfaccia direttamente. Mi devo collegare come amministratore. qui ho già configurato, diciamo, fatto la configurazione base, quindi c'è una casella PEC configurata. Devo andare in conservazione Dopo aver fatto, diciamo, dopo aver fatto un contratto con 2C Solution che mi manderà delle mail con i dati, uno user ID e una serie di altri dati che vanno inseriti qua. Questi sono tutti i dati che servono per la configurazione. Alcuni dati aziendali, la partita IVA e altri numerini che vengono forniti dal conservatore al lato della stipula del contratto. Quindi per ogni, diciamo, Gateway PEC supporta più spazi di conservazione se ne possono aggiungere degli altri. Fatto questo, dopo che ho attivato il servizio di conservazione e verificato che il test funzioni, quindi riesce a connettersi con i gestori di post della conservazione digitale, vado nelle caselle PEC, se ne ho più di una, diciamo qui ce n'è una sola, comunque, e vado in conservazione digitale e dopo aver attivato, diciamo, uno o più spazi di conservazione, qui avrò la possibilità di associare questa casella a quello spazio. Se ne ho più di uno, ci sarà una listbook di selezione per scegliere quale spazio utilizzare. Quindi avendo più caselle e più spazi di conservazione, si può fare una cosa ibrida. Ogni casella ha il suo spazio oppure tutte le caselle usano lo stesso spazio o delle cose intermedie a seconda delle esigenze. Basta, diciamo, sulla conservazione è tutto qua. Lo scoglio è più difficile, probabilmente, inserire correttamente i dati per riuscire a connettersi correttamente la prima volta che si mette in piedi. Guardiamo la seconda funzionalità che volevamo esaminare oggi, il processo telematico. Di cosa si tratta? È una procedura che riguarda gli avvocati, Quindi, diciamo, anche i tribunali si sono digitalizzati. C'è un processo che si chiama processo civile telematico per cui lo scambio di atti tra avvocati e tribunale avviene per via telematica con una procedura che si chiama processo civile telematico. Cosa consiste? Diciamo, quando ho uno scambio di mail certificate, quindi attraverso la posta PEC, che, diciamo, l'avvocato manda gli atti e poi, una volta fatto partire il processo, si riceve una serie di scambio di mail certificate con le ricevute, diciamo, con l'avanzamento della procedura, eccetera. Se volete approfondire il meccanismo, c'è un video linkato in questo articolo che spiega qualche dettaglio in più su come funziona questa procedura. Gateway PEC come si inserisce in questa procedura? Diciamo, anche in questo caso, come prima non faceva il conservatore digitale, anche qua, diciamo, non fa la parte del tribunale. Diciamo, si mette tra l'utente e il gestore di posta PEC a cui l'utente si appoggia per inviare e ricevere mail certificate e, diciamo, prepara il messaggio di deposito che il tribunale richiede nel formato in cui richiede per essere accettato e poi gestisce, diciamo, le raccoglie le ricevute e fa sì di mettere tutto assieme in un thread in modo che l'utente, partendo da un messaggio riesce anche a recuperare tutte le relative ricevute e il traffic maker si è scambiato relativo a quella procedura come descritto qua. Anche qua attivare il processo telematico in JPEG è semplice. Si va qua e si abilita il processo telematico e poi nel caso in cui ho più caselle PEC uno più caselle PEC diciamo posso decidere quale casella PEC diciamo attivare il processo. La casella PEC è ovviamente la casella PEC del tribunale quindi se io voglio sono un avvocato mi sono associato a questa casella PEC e voglio interfacciarmi con il tribunale del processo telematico devo andare prima a capire collegarmi col sito del del tribunale del mio tribunale di riferimento e capire qual è la casella PEC a cui bisogna inviare queste mail per questa procedura. La configuro quella casella configuro l'accesso nel gateway PEC e poi vado ad abilitare il processo telematico sapendo l'abilitato di qua l'abilitato di default per tutte le caselle basta diciamo fondamentalmente un paio di flag da attivare e basta diciamo tutta la complessità della costruzione dei messaggi diciamo la fa il gateway PEC quindi l'utente dovrà semplicemente comporre una mail normale allegare i documenti previsti da quello che vuole fare e mandarla al gateway PEC il gateway PEC diciamo aprirà il processo telematico grazie per aver seguito questo video al prossimo grazie per aver guardato